Un avvocato del Tribunale di Urbino, incaricato di essere anche amministratore di sostegno di diversi portatori di disabilità, è stato accusato di essersi appropriato indebitamente di 135.000 euro prelevati in diverse fasi dai conti bancari dei propri assistiti. Conti ai quali poteva cedere in quanto incaricato a provvedere delle necessità di propri assistiti gravati da infermità fisiche e psichiche. La Guardia di Finanza di Urbino ha portato avanti le investigazioni tramite accertamenti bancari e rintracciando testimonianze che hanno suffragato l'accusa di peculato. A quanto si è scoperto l'avvocato era solito fare prelievi di denaro dai conti correnti e dai depositi postali degli amministrati all'insaputa di questi ultimi e senza un'adeguata rendicontazione negli atti depositati presso il giudice tutelare. Giudice che era quindi impossibilitato a vigilare sull'attività. La Procura della Repubblica di Urbino condividendo l'impianto accusatorio delle fiamme gialle ha chiesto e ottenuto dal GP il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato pari all'ammontare delle somme prelevate. E' stato così posto sotto sequestro un immobile di proprietà del professionista del valore equivalente di 135 mila euro.